Io devo credere in tutto ciò che dite! C'era una volta una principessa che morì. Grazie di cuore luigino e tanti auguri ancora per il tuo 32esimo compleanno. Chi ha spento la luce? Basta quello. Pelo fuori posto ci toglie il sole. Per quanto tempo vai a letto te? Vabbè, passiamo alla immedesimazione. Cochi, cochi, non perdete la straordinaria offerta della settimana. Solo per oggi è 19 euro, non vate meglio. C'è poco amore, uno di questi. Cochi, cochi, anche te bellezza. Ci vedremo dopo in magazzino per le presentazioni. Cochi, c'è poco a te. E' la bella. Cochi, cochi, coppa te. Cochi. Devo ancora capire che cosa ci stava vendendo con 19,90. Signor Duilio, lei è fermo sul cosa. Ma noi dobbiamo concentrarci sul come. Femmo i conti. Sì. Quanto spendeva lei al mese? 200 euro? Ma qualcosa. Vergognati. Ma qualcosa. Supponiamo che i mesi dell'anno scorso siano stati 12. Supponiamo. Ecco qua, lei spendeva 2400 euro all'anno. 2400 euro all'anno ti spendeva vergogni, mica, schifoso. Ma di cosa? Perché non ho capito. Comunque interveniamo noi. Perché qua. Scarica i rap, i res, i pep. Anche Ines. Ma qui la ti aveva scaricarla tanti anni fa. Eh. La voce è importante. La voce va impostata, bene. La voce deve arrivare in teatro fino all'ultima fila, come fanno i cantanti lirici. Oh, provate. In maschera. In maschera. Ne volete un esempio? Sì, maestro. Volete un pezzo dalla zia Ida, dal Trovarobe, o dal barbiere di Marsiglia? Scusi, maestro. Non è il barbiere di Marsiglia, ma è di Siviglia. E poi è la... Daci! E ascolta. Mi ha fremme? Ah, maschera. Bravo, bravissimo, ma guapaplema. Qualsiasi cosa a disposizione. Ehi, cavalliva, ehi. Va beh, dai, il caffè vi offro, mi. Oh, grazie. Allora qua, 19,90 euro al mese. Io non ho capito per cosa mi... Guardi, mi scusi, facciamo così. Metti che compravvo. Cos'è che comprassi, se io comprassi? Signor Duilio, mi guardi attentamente. Cosa vede? Un mona. No, mi guardi meglio. Confermo. Ah, e allora non vede l'opportunità? No. E allora, se non vede l'opportunità, io mi arrendo. Mi arrendo. Duilio, vergognate. Vara dei volte morire che te fossi nato gatto, pa' avere soddisfazione di vederti morire sette volte. Ma qualcosa. Macci, metti giù il volantino, concentrati per piacere. Sì, però ti ricordo che l'offerta scade questa settimana. Ma se vogliamo trovare idee creative per la trasmissione, devi dimostrare di essere anche preparato. Certo. Facciamo. Storia. Sì. Roma. E ora è geografia, forse. Macci, per piacere. I nomi dei sette re di Roma. I so. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e l'ultimo non me lo ricordo mai. Sette. Sette. Sette, bravo. L'andamento di prezzo di questo straordinario prodotto ha subito oscillazioni assurde negli ultimi 24 mesi, senza considerare l'andamento degli ultimi due anni, dove l'indice Nikkei è stato protagonista assoluto, senza citare lo spread in diminuzione, che però ha fatto attestare il prezzo di questo prodotto solo per questa settimana alla straordinaria cifra di 19,90 euro al mese. Non vedete com'è che questa è un'offerta... Irrinunciabile. Eh. Altronde non sei che il piccione cammina così per la piazza e Michael Jackson. Porto senz'altro i saluti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del nostro Papa Francesco, i Vescovi, i Viaconi, tutto l'ordine sacerdotale. E' una questa e' un'altra roba. Mi sono confuso. 19,90 euro! Metti in avviso un carteo, coca, ciapa qua. Ah, è quella cosa di 19,90 euro? Eh, c'ho. Ah, è una cosa bellissima. E' un euro in meno di 20, eh. Ho i Pitagoras, i 10 centesimi. Ah, sì, 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 sì. Un attimo che in forco gli occhiali ci do un'occhiata, eh. E quelli? No, questi sono solo di bellezza. Ah, beh, no! Complimenti all'Ottico! E quindi per soli 19,90 euro questo incredibile e imperdibile prodotto. Perché, come dico sempre, non è che i dinosauri si sono estinti perché gestava sui maroni a tutti. Eh, arrivederci! Senz'altro, grazie a Vieneo da Mestre e sosteniamo questi giovani imprenditori freelance. E a proposito di grandi offerte, ho caro annunciarvi che da domani in edicola uscirà il mio DVD nella colonna, le mie conferenze. Prima stagione, domani in edicola, a soli 5,90 euro. Affrettatevi! Complimenti, perché lei è l'unico che ha saputo cogliere questa straordinaria occasione. Sì, ma cosa ho comprato? Ah, guarda, cocco, non ho capito niente a me. Ma non mettiamo la pasta di fissana ai macachi perché c'è il cuoetto rosso. Ah!